Ciao a tutti, oggi è lunedì 21 gennaio 2019, iniziamo subito con costruire un heavyset di 3 hang squat snatch, a seguire 15 minuti unwrap con 3 snatch, 6 push up e 9 air squat. Pesi scalature come al solito sulla grafica qui di fianco, ci vediamo domani per un altro WOD. Bentornati su Ciperto.